iscriviti al canale guardi non manco spazio che dà la squadra 300 di danno mamma mia la macchina è assurata proprio guarda che la macchina è sempre giusto oggi guarda buono bravo non è già sono in terra però non sa quando era la cipro nube grazie non è ora accendiamo la macchina io devo essere nata non è la cipro nube indica un punto di lancio conduci tu il team sono ammarcato dell'equipaggiamento e mai ero subito la cipro se mi spazzate ma poi abbiamo potuto il salmone guarda basta sono un sciacallo capite chi atterra a fare malandre se la tua da la coppia vaga vai giù cosi dici vai ah annaccio palapella mannaccio come erano cessi di palapella massimi quando me lo fai essere intratto mi sta allaggiando guarda mamma mia mamma bella non ferma ma 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 sapendo gente scendere tutti nella casa dello sciacallo mi raccomando giusto sono troppo lontano giudici io fra mi interessa mi fottuto mi fottuto mi fottuto va 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 trasi 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 ora carnava mi rievo te cacchè che ta non so che c'è scendere la team scendere la team la voglio in sicurezza va mi sa che c'è la dà bisogno che mi rinna ma chi è che ha fatto ma chi è che ha fatto è un uomo mi ha segnalato non mi ha fatto ma 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 chi è che ha fatto sono qua ok ti puoi guardare guarda 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 il caos vabbè guarda 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 ma la terra ma la terra adesso a pepe adesso? no a pepe adesso ah pepe adesso scusa e chi l'ha detto? io? io non so giunto mi ha dato a fare mi ha dato a fare mi stanno colpendo mi stanno colpendo ma non sono ancora massimo stanno mi ha dato a te ah una terra una terra una terra pepe guarda una mano sono pure i cari stanno non vi ho moito state occhi aperti occhi aperti sono gli altri 3 questa è molto qua non ci sono andati oh guarda coprii temi coprii temi coprii temi coprii temi siamo andati con la terra si vediamo molto trazie mille dalle basse oh c'è chi ne lancia l'ho hai 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 che ma non ci sono andati non ci sono andati non ci sono andati non ci sono andati beppe metteteci scuole ma ti tieni scuole ora hai hai Speratelo, speratelo! Speratelo, non mi piace proprio, capa fuori! Gassi in avvicinamento! Abbiamo giù la manetta, non usano, non usano, abbiamo giù la manetta! Abbiamo giù la manetta! Sono a terra! Asci, ma ci c'è tutto! Non c'è tutto, non c'è tutto! E' un soldi! Ma non c'è tutto! Non c'è tutto! Non c'è tutto! Non c'è tutto! Ma ci sono due, anche due, anche due a loro, anche da loro! Non c'è tutto! Un'amociso! Ma si usciti! Scusa! Faccio la pagina, son! Compagno finito nel gulag! Chi sopravvive lì, torna in prima linea! Faccio più di affendere, faccio! Quei stronzi sono grave di ferito! Non è che ha capito! No, sono in casa, non c'è tutto! stavano a casa nella nuova da sinistra come uscite prima mi serve a rosto c'è il mannale, il mannale adesso è qua sotto la sudo, Massimo massimo vai vai ragazza che stanno il vero scrive la città sono un calore stata la carica è un sapito la città di rilassare sanare 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 basta ma io appena voglio arrivo caschiattato la carina è morto l'esatacente richiede un sorbono di ricognizione avanti 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 una stazione d'acquisto ma il nome ma c'era carnetta quattro cento e quattro cento e quattro cento c'è la macchina guarda spara ma sparare con la pasta ora ora buona 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 per la città scusate potrebbe essere la salire dai su 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 salire e mochi scango più c'era una favore salite salite oggi è il blu ma ne ho tu a b ma c'è la tua b ma non ho dovuto usare la città aprena attacca graffi quattro manoe aiuto un colpo una terra un altro terra resta a me Beppe resta a me si che si vieni tu vieni questa terra vieni come un po' è cambiata si arriva massimo resta a me ora non muove Allora, devi passare! Devi anche fare un sciarpo! Guardate il favore! Guardate c'è ci sono! Ma che senti che stanno bucando altre cose! Beppe è un nuovo loco! Guardate il favore! Guardate il favore! Stai giudizio, non escono l'aria, volevo fare la porta! Ma la posta! Non ho vissi, mamma! Dai, ora sta andando in retto là eh! vorrei che brutto quarto lo faccio a scissare lancia una stordente no sta su ma ti coprei di coprire, resta di resta di resta di resta di resta di resta resta, accorto a destra, accorto a destra ma no ricognizione alleata in arrivo oh aiuuu, che coprito, aiuuu, che coprito eh, atterra, atterra ma una giuda a terra, mamma c'è ok, restatemi, restate Peppe e mantieni i soldi per restare il mio caso Mike il perdono di questo scontro tornino in prima linea si dice vengono, non vuoi, non vuoi se se si fa eh, no, non vuoi smalare l'euro d'occhio dai, dai, ti copri, dai, ti copri nessuno vuoi, non vuoi smalare l'euro ma,‏ se vengi questo scontro tornino in prima linea ma, hai detto, non vuoi? prendi i soldi, prendi i soldi, prendi i soldi prendi i soldi qui ci sono soldi ora ci faccio ora andiamo a sparare qui là ora sto facendo la finestra guardate qui guardate qui hai fatto l'alicottero Antonio hai fatto l'alicottero? ora andiamo a sparare qui là vai Massimo, ti dico che hai fatto dove è Manuè? dai è qui a parte, non mi prendi spara 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 non ho accorto a un gara però che c'è un muro guardate qui guardate qui, guardate qui guardate qui, guardate qui 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 Pugliate le munizioni a Kandere, andiamoci, vai, veloci. UAB nemico in volo. Ma che spazio, mi fai la gamma meglio loro, mi fai la muta. Avanzate, avanzate. Ma come a terra questo? Fai la capa, Faglio, salta capa. Mi sarebbe un po' detto, Faglio, da se fa qui. Fattugliamento UAB iniziato. Se ne sarda. Ah, giu, va, buttami. Va, c'è un mezzo, guarda, vieni tu! Oh, e pede, dì maniera. Prima Dio, N khoot, fecchio, pata. Vieni, 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 vieni. Ho scopato, vieni, vieni. Vieni da più a destra, vieni da più a destra. Ecco, vieni a destra. Credo, vieni a destra. A prego, bisco, vieni. RIVORNIMENTO Il primo suono a sinistra Ci siamo a destraire da questo muretto Abbiamo mai avuto capitale Un'altra terra fuori si Un'altra terra Ok sono morto Sto a destraire da qui Un amico in volo Non vanno a mezz'aiuto Maggio dai non ti vedi Maggio deriva Vaggio Vagio Agu Stai 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 Mami Esci fuori resta Mettere il scudo L'ultima bomba L'ultima bomba La legge Ma che è successo? Suggire, scissare! Non riuscire! Avanzati, avan Nuova Mi mani in piedi Non riuscire il negozio Ok, si è morto Non riuscire aiutati Grazie, zumbando Mi chiamiamo Lo so, ma si vanno sempre Pazz! Ma fermi modelli scudi ce l'avete ma la parola non c'è la parola non c'è 3 3 vedeca idea da se non ci vede voglio avanziamo non so dove però cacca monta come sono stati attualmente il caso non è no ma rimane l'ho con voi ti vuoi essere sicuro che non ti vede vede a sinistra direttamente a sinistra ping 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 salite a destra perché stanno in casa non è la rete ma non è andiamo da casa attacca a grapple, andiamo qua questo attacco a grapple ora non vuoi attaccare a pote non vuoi venire qui non vuoi venire qui vieni qui, vieni qui attacca a grapple a pote vieni qui, vieni a destra non trascire, vai un po' Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. un secondo tema mi ha preso stai ora non mi faccio arrivi e mi devoevare e mi verserò che fai tanti colgono non me lo chi o lo scarpe non muovo non puoi rubire non succede non lo so, non lo muovere guarda che 13 kill lo tieni tu, chiedi un colto Ehi! Vai! Sì! Vai, ammarita da scegliere Sì! E' un fenomeno! Ma è un fenomeno questo ragazzo Mamma mia, mi sussurano in D-Pack E' un fenomeno questo ragazzo E' un fenomeno che ha dato E' un fenomeno questo ragazzo l'uomo c'è detto 3 kill è la partita prima si dice non so se mi spiega ma che se l'ha già l'ha già salvato questa partita salvo gioco recente oh donna è un uomo per sapere che tu fatti stanno andando a fare ma poi molto ne trovate che vi dici ma se non facevo davanti ma che no?